Capitolo 11 In un pomeriggio della settimana seguente, Rossella tornò dall'ospedale stanca e indignata. Era sfinita per essere stata in piedi tutta la mattina e irritata perché Mrs. Meriwether le aveva mostro un duro rimprovero, vedendola seduta sul letto di un soldato mentre gli fasciava il braccio ferito. Zia Pitti e Melania, con la loro cuffia migliore, aspettavano sotto il portico insieme a Wade dei pressi, pronte per il loro giro settimanale di visite. Rossella le pregò di scusarla se non le accompagnava e salì nella sua stanza. Svanito il rumore della carrozza, quando fu sicura che la famiglia non era più in vista, si insinuò cautamente nella stanza di Melania e girò la chiave nella serratura. Era la cameretta fresca e linda di una fanciulla, silenziosa e calda sotto i raggi obliqui del sole pomeridiano. Il pavimento era tirato a lucido, coperto soltanto da pochi tappetini di stoffa vivacemente colorati e le pareti bianche erano vuote, con l'eccezione di un angolo che Melania aveva sistemato come un altarino. Sotto una bandiera della Confederazione, drappeggiata sulla parete, era sospesa la sciabola dell'Elsa d'Oro che il padre di Melania aveva usato durante la guerra messicana. La stessa che Carlo aveva portato con sé partendo per la guerra. Anche la sciarpa e la cintura di quest'ultimo erano appese alla parete, con la pistola nella fondina. Fra la sciabola e la pistola c'era un daguerrotipo di Carlo, molto rigido ed orgoglioso nella sua uniforme grigia, con i grandi occhi neri che sembravano brillare nella cornice ed un timido sorriso sulle labbra. Rossella non diede neanche uno sguardo al ritratto, ma attraversò senza esitare la stanza fino al tavolo accanto al letto, sul quale c'era una scatola quadrata di palissandro che conteneva un occorrente da scrittoio. Da questo prese un pacchetto di lettere legate con un nastro azzurro, scritte da Ashley a Melania. In cima a tutte c'era quella arrivata la mattina, e fu questa che la giovane aprì. Quando aveva cominciato a leggere quelle lettere, Rossella aveva provato tanto rimorso e tanta paura di venire scoperta che era riuscita a malapena ad aprire le buste, tanto le tremavano le mani. Adesso il suo senso dell'onore, piuttosto privo di scrupoli, era tutito dalla reiterazione della colpa, e anche la paura di essere scoperta si era attenuata. A volte pensava, con sconforto, che cosa direbbe la mamma se lo sapesse? Era certa che Elena l'avrebbe preferita morta, piuttosto che colpevole, di un simile disonore. All'inizio quel pensiero l'aveva preoccupata perché ancora desiderava essere come sua madre. Ma la tentazione di leggere le lettere era troppo forte, e Rossella allontanò dalla mente il pensiero di Elena. In quei giorni aveva imparato a scacciare i pensieri sgraditi. Si era abituata a dirsi, adesso non indugerò su questo o quel problema, ci penserò domani. E in genere l'indomani o quel pensiero non le si presentava alla mente, o era tanto sbiadito dal tempo trascorso che non le causava grandi ansie. Quindi leggere le lettere di Ashley non le pesava troppo sulla coscienza. Melania era sempre generosa con le lettere di suo marito. Ne leggeva buona parte ad altavoce a Diapiti e a Rossella. Ma ciò che tormentava quest'ultima e la trascinava a scorrere di nascosto alla posta di sua cognata era la parte che le rimaneva ignota. Aveva bisogno di sapere se Ashley, dopo aver sposato sua moglie, era arrivato ad amarla. O se fingeva. Chissà se le scriveva delle parole tenere. Quali sentimenti le esprimeva? Lisciò la lettera con cura. Le prime parole, cara moglie, le fecero trarre un sospiro di sollievo. Non la chiamava, amor mio, né tesoro. Cara moglie, mi hai scritto dicendomi che temevi che io ti nascondessi i miei veri pensieri e mi chiedevi che cosa in questi ultimi tempi occupa la mia mente. Santissima vergine, pensò Rossella terrorizzata. Nascondere i suoi pensieri? Possibile che Melly gli legga nel cuore? O legga nel mio? Sospetta forse che lui è Dio? Le sue mani tremavano di terrore, ma nel leggere il periodo seguente si calmò. Cara moglie, se ti ho nascosto qualche cosa è stato perché non volevo aggiungere alle tue preoccupazioni per la mia salute fisica anche quelle per un mio tormento spirituale. Ma non posso nasconderti nulla perché tu mi conosci troppo bene. Non aver paura. Non sono ferito e non sono neanche stato ammalato. Ho abbastanza da mangiare ed anche ogni tanto un letto per dormire. Per un soldato è anche troppo. Ma ho pensieri gravi, Melania, e voglio aprirti il mio cuore. In queste notti estive spesso rimango sveglio, mentre tutto il campo dorme e guardo le stelle chiedermi. Perché sei qui, Ashley Wilkes? Perché cosa combatti? Non certamente per l'onore e per la gloria. La guerra è una brutta faccenda, e a me le cose brutte non piacciono. Non sono un soldato e non desidero cercare la fama neppure sulla bocca di un cannone. Eppure sono qui alla guerra, mentre Dio sa che non avevo mai desiderato altro che di essere uno studioso gentiluomo di campagna. Le trombe non mi fanno bollire il sangue e i tamburi non mi eccitano, e vedo troppo chiaramente che siamo stati trascinati dalla nostra stessa arroganza suddista, illudendoci che uno di noi potesse abbattere una dozzina di ienchi, credendo che Sua Maestà il cotone potesse governare il mondo. Illusi anche da parole, frasi, pregiudizi e odi che venivano dalla bocca di coloro che erano in alto, di quegli uomini per cui avevamo rispetto e considerazione. Parole come Sua Maestà il cotone, schiavismo, diritti di Stato, maledetti ienchi. Così, quando sono sdraiato a guardare le stelle, mi chiedo per che cosa combatto. Penso ai diritti di Stato, al cotone, ai negri e agli ienchi, che siamo stati educati a odiare, e so che nessuna di queste è la ragione per cui combatto. Invece, vedo le dodici querce e ricordo il chiaro di luna attraverso le bianche colonne, il divino aspetto delle magnolie e le rose rampicanti che ombreggiano il porticato anche nei pomeriggi più ardenti. E vedo la mamma, seduta a cucire come quando ero bambino. E sento i negri che tornano cantando dai campi, al crepuscolo, stanchi e pronti per la cena, e il cigoglio della carrucola quando il secchio scende nel pozzo fresco. E poi vedo la lunga strada verso il fiume, attraverso i campi di cotone, e la nebbia che si alza dalla pianura al tramonto. Ed è per questo che io sono qui. Io che non amo la morte né la miseria né la gloria e non odio nessuno. Forse questo è quello che si chiama patriottismo, amore per la propria casa e per il proprio paese. Ma la causa, Melania, è ben più profonda, perché quanto ho nominato non è che il simbolo di ciò per cui rischio la mia vita, il simbolo del genere di vita che amo. Io combatto per i vecchi giorni, per le mie vecchie abitudini che amo tanto e che temo siano ormai svanite per sempre, comunque vada a finire. Perché, che vinciamo o perdiamo, avremo perso comunque. Se noi vinceremo questa guerra e avremo il regno del cotone dei nostri sogni, avremo ugualmente perso, perché diventeremo diversi e l'antica tranquillità sarà scomparsa. Il mondo sarà alle nostre porte, a chiedere il cotone, e noi potremo dettare i nostri prezzi. E allora temo che diventeremo come gli Yankee, di cui oggi denigriamo l'avidità e lo spirito commerciale. E se perdiamo, Melania? Se perdiamo? Non temo il pericolo di essere preso prigioniero o ferito o anche ucciso, se la morte deve venire, ma temo che una volta finita la guerra non torneremo più agli antichi tempi. Non so che cosa ci porterà il futuro, ma certamente non potrà essere così bello come il passato. Guardo i ragazzi che dormono accanto a me e mi domando se i gemelli o Alex o Cade hanno gli stessi pensieri. Chissà se loro sanno che combattono per una causa che è stata persa fin dalla prima fucilata. Ma non credo che ci pensino, quindi saranno felici. Quando ti ho chiesto di sposarmi, non pensavo che ci sarebbe successo questo. Credevo che tutto, alle dodici querce, sarebbe andato avanti come era sempre stato, una vita quieta, felice, immutabile. Noi ci somigliamo, Melania, amiamo le stesse cose semplici, ed io immaginavo per noi una lunga serie di anni tranquilli da trascorrere leggendo, ascoltando musica, sognando. Ma non questo! Oh no, non questo! Che dovessero accaderci queste cose, tutte le vecchie abitudini distrutte, e questa strage sanguinosa, e l'odio! Niente, Melania, può valere questa tragedia, né i diritti degli stati, né gli schiavi, né il cotone. Niente vale quello che ci sta accadendo e quello che potrebbe accadere, perché se gli ienchi ci sconfiggono il futuro sarà orribile. E non è impossibile, cara Melania, che ci sconfiggano. Non dovrei scrivere questo, e neanche pensarlo, ma tu mi hai chiesto che cosa avevo nel cuore, e adesso è pieno del timore della disfatta. Ti ricordi al banchetto, il giorno in cui fu annunciato il nostro fidanzamento, che un certo Butler suscitò quasi una lite con le sue osservazioni sull'ignoranza della gente del sud? Ricordi che i gemelli volevano ammazzarlo perché aveva detto che avevamo poche fonderie, poche fabbriche, poche navi, arsenali e industrie meccaniche? Ti ricordi quando disse che la flotta ienchi poteva imbottigliarci così strettamente che noi non avremmo più potuto esportare il nostro cotone? Aveva ragione. Noi combattiamo contro i nuovi fucili degli ienchi con i moschetti della guerra rivoluzionaria, e fra poco il blocco sarà troppo stretto per lasciare entrare anche i medicinali. Dovevamo dar retta a un cinico come Butler, che sapeva, invece che a uomini di stato che parlavano, e ignoravano. Infatti lui disse che il sud non aveva nulla con cui condurre la guerra, se non cotone e arroganza. Il nostro cotone oggi non vale nulla, ed è rimasto soltanto ciò che lui ha chiamato arroganza. Ma, secondo me, questa arroganza è coraggio incommensurabile, e... Rossella ripiegò attentamente la lettera senza terminarla, e la ficò nella busta, troppo annoiata per continuare la lettura. Inoltre il tono della missiva la rattristava un po', con tutto quello sciocco parlare di sconfitta. In fondo non leggeva la posta di Melania per conoscere le idee discutibili e noiose di Ashley. Ne aveva dovute ascoltare già troppe nei giorni passati, quando lui sedeva sotto il portico di Tara. La sola cosa che desiderava conoscere era se Ashley scriveva a sua moglie delle lettere appassionate. Fino a quel momento non ne aveva scritte. Lei aveva letto tutte quelle che erano nella scatola di legno, e in nessuna c'era una frase che un fratello non avrebbe potuto scrivere a sua sorella. Affettuose, umoristiche, discorsive, ma non certo le lettere di un innamorato. Rossella aveva ricevuto troppe ardenti lettere d'amore, per non riconoscere a prima vista l'autentica nota della passione. E questa nota mancava. Come sempre, dopo le sue segrete letture, provò un senso di profonda soddisfazione, sentendosi sicura che Ashley l'amava ancora. La stupiva che Melania non si accorgesse che suo marito le voleva bene soltanto come a un'amica. Evidentemente non si rendeva conto di ciò che mancava in quei messaggi, ma Melania non aveva ricevuto altre lettere d'amore per poter fare il confronto. Che buffe lettere! Pensò Rossella. Se mio marito dovesse scrivermi simili sciocchezze, mi farei sentire. Perfino Carlo scriveva delle lettere migliori di queste. Le sfogliò per guardare le date, per ricordarne il contenuto. Non c'erano pittoresche descrizioni di bivacchie e di cariche come quelle che Darcy Mead scriveva ai suoi genitori, o il povero Dallas McClure aveva scritto alle sorelle Zitelle, le signorine Faith e Hope. I maid e i McClure leggevano con orgoglio quelle lettere a tutto il vicinato, e Rossella spesso si era segretamente vergognata che Melania non avesse lettere come quelle da leggere ai circoli di Cucito. Sembrava che, nello scrivere a Melania, Ashley dimenticasse la guerra e cercasse di tracciare attorno a loro due un cerchio magico fuori del tempo, scrollando lontano da sé tutto ciò che era avvenuto da quando Fort Sumter era il discorso del giorno. Parlava di libri che lui e Melania avevano letto, di canzoni che avevano cantato, di vecchi amici, di luoghi che aveva visitato in Europa. E in quelle lettere c'era una malinconica nostalgia delle dodici querce. Dedicava a lunghe pagine a rievocare le gelide stelle di un cielo autunnale, i banchetti con la porchetta arrostita, le merende a base di pesce fritto, le quiete notti inondate di chiaro di luna e il fascino sereno della vecchia casa. Lei ripensò alle parole di quest'ultima lettera. Non questo. E le sembrarono il grido di un'anima tormentata dinanzi a qualcosa che non avrebbe voluto, eppure doveva affrontare. Ma se non temeva le ferite e la morte, quali erano i suoi timori? Completamente priva di spirito analitico, scrollò da sé quel pensiero complesso. La guerra lo sconvolge e lui detesta le cose che lo sconvolgono. Per esempio io. Mi amava, ma ha avuto paura di sposarmi perché... forse temeva che avrei turbato il suo modo di pensare di vivere. No, neanche precisamente paura. Ashley non è vile, non può esserlo, dal momento che ha ricevuto una menzione e che il colonnello Sloan ha scritto a Melly una lettera di elogi per il suo valoroso contegno nel guidare le truppe all'assalto. Quando si mette in mente di fare una cosa, nessuno è più deciso e più coraggioso di lui. Ma... vive dentro di sé invece di vivere fuori e detesta essere trascinato nel mondo. Ma... non capisco. Se avessi capito questo allora sono certa che mi avrebbe sposata. Rimase un istante a stringersi le lettere al seno, pensando con nostalgia ad Ashley. I suoi sentimenti verso di lui non erano mutati dal giorno in cui se n'era innamorata. Era la stessa emozione che l'aveva mutolita quel giorno. Aveva 14 anni, quando sotto il portico di Tara lo aveva visto arrivare a cavallo e sorriderle con i capelli che brillavano al sole. Il suo amore era ancora l'adorazione della fanciulla per un uomo che non riusciva a comprendere. Un uomo che possedeva tutte le qualità che a lei mancavano, ma che destavano la sua ammirazione. Lui era ancora il principe azzurro sognato da una fanciulla, la quale non chiedeva altra ricompensa per il suo amore se non un bacio. Dopo aver letto quelle lettere ebbe la sicurezza che Ashley amasse lei, Rossella, benché avesse sposato Melania, e questo era quasi tutto ciò che poteva desiderare. Era ancora giovane e pura. Se Carlo, con la sua goffaggine e inettitudine e con la sua imbarazzante intimità, si fosse imbattuto in una delle vene profonde di passione che erano nascoste dentro di lei, i sogni della ragazza non si sarebbero limitati a desiderare da Ashley un bacio. Ma le poche notti trascorse con Carlo non avevano toccato nulla nel suo intimo, né l'avevano minimamente maturata. Suo marito non le aveva fatto comprendere che cosa potevano essere la passione, la tenerezza, la vera intimità del corpo e dello spirito. La passione a lei sembrava soltanto una virtù ad una inesplicabile follia maschile, non condivisa dalle donne, qualcosa di doloroso e di imbarazzante che era stato una sorpresa per lei, perché prima delle nozze Elena le aveva fatto comprendere che il matrimonio è una prova che le donne devono sopportare con dignità e fermezza, e i commenti bisbigliati dopo la sua vedovanza dalle altre donne avevano confermato in lei quell'idea. Rossella era dunque ben contenta di non aver più a che fare con il matrimonio. Non aveva più a che fare con il matrimonio, ma con l'amore sì, perché il suo amore per Ashley era diverso, era qualcosa di sacro che le toglieva il respiro, un'emozione che andava crescendo durante le lunghe giornate di silenzio forzato e si nutriva di ricordi e di speranze. Sospirò nel legare nuovamente il nastro attorno al pacchetto, chiedendosi per l'ennesima volta che cosa esattamente non riusciva a capire di Ashley. Cercò di riflettere per raggiungere una conclusione accettabile, ma come sempre la conclusione sfuggiva alla sua mente priva di complessità. Rimise le lettere nella scatola e chiuse il coperchio. Allora aggrottò le sopracciglia perché le venne in mente l'ultima parte della lettera, quella che riguardava il capitano Butler. Strano che Ashley fosse rimasto impressionato da ciò che quel furfante aveva detto un anno prima. Inegabilmente il capitano Butler era un furfante, ma ballava divinamente. Solo un mascalzone poteva dire quello che lui aveva detto della Confederazione quella sera alla vendita di beneficenza. Si avvicinò allo specchio e si lisciò i capelli soddisfatta di sé. Si sentì sollevata come sempre quando vedeva la sua pelle di magnolia e i suoi occhi verdi, e sorrise per far apparire le due fossette. Poi allontanò da sé il pensiero del capitano Butler, contemplando allegramente la propria immagine riflessa, ricordando che ad Ashley erano sempre piaciute le sue fossette. Nessun rimorso di coscienza, perché amava il marito di un'altra donna o ne leggeva la corrispondenza, turbava il piacere provato per la propria giovinezza ed il proprio fascino o per la rinnovata certezza dell'amore di Ashley. Riaprì l'uscio e discese a cuor leggero la scala, pervasa da una semi-oscurità che dava un senso di fresco cominciando a cantare When this cruel war is over.